Il comune di Agropoli, retto dal sindaco Roberto Modalipazzi, punta ad effettuare i lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine, nell'ambito del piano di interventi nazionale denominato Sport e Periferie. Un iter che segue quello partito già nel 2020, quando all'epoca il comune era guidato dall'amministrazione di Adamo Coppola, a seguito dell'accordo che veniva sottoscritto tra la Sport e Salute S.p.A., la società che gestisce le risorse del Codico, invitato olimpico nazionale italiano con sede in Roma, ed il comune di Agropoli per il finanziamento dei lavori che hanno riguardato il campo di calcio Polito per l'importo di 880.000 euro con la compartecipazione economica dello stesso comune. Nel giugno del 2021 il comune di Agropoli aveva affidato i lavori ad una ditta locale, con l'ente che aveva già provveduto ad effettuare pagamenti all'impresa nelle more del trasferimento delle somme da parte della società Sport e Salute S.p.A., al fine di non pregiudicare l'andamento degli stessi finanziamenti. I lavori, tuttavia, ad oggi sono bloccati, con l'ente che ha fatto ricorso e si è costituito in giudizio presso il Tribunale di Varo della Lucania, conferendo l'incarico all'Avvocato Umberto Salerno. Da una verifica operata dagli uffici tecnici comunali, inoltre, è giunta la notizia che bisogna spendere un'ulteriore somma aggiuntiva di 97.169,29 euro, che sono soldi che servono per il compenamento dei lavori, in parte con i vecchi prezzi oggetto di appalto e in parte con i nuovi prezzi oggi vigenti. Queste somme aggiuntive, sostiene il Comune, saranno evidenziate nel contenzioso instauratosi presso il Tribunale di Varo della Lucania e, qualora la linea dovesse pendere a nostro favore, saranno recuperate. In ogni caso, la strategia è quella di perseguire la realizzazione dell'opera prevista perché ritenuta strategica per la zona di mattina. Il Campopolito fu inaugurato per la prima volta nel 2008, sotto l'amministrazione per ciò che concerne quello che fu il primo mandato, dell'allora sindaco Franco Alfieri. Ora, a causa della sospensione dei lavori, si trova in una situazione non certo edificante di degrado. Il progetto di riqualificazione prevede l'installazione del manto erboso in erba sintetica ed anche la ristrutturazione degli spogliatoi, ma non solo. I cittadini si aspettano una svolta in questo senso per dotare anche la zona periferica di mattina di una struttura sportiva degna e all'avanguardia.